bello a tutti ragazzi sono smiley e oggi siamo su skill qui con me come sempre c'è Stark ciao a tutti ragazzi voglio dirvi che io in questo gioco sono un fenomeno io no dove sei non lo so non lo so ma secondo me siamo contro si stiamo contro aiuto hai già sto per morire scappa scappa oh merda allora ho fatto una kill non ci credo fortuna del principio a me mi sono ciecato qua e sono morto e mi hanno ucciso ok sto all'ultimo posto nella mia squadra come si fa a vedere eh devi tenere un brumuto tab non sai quali le tab bomba in buca e buttiamo un po di bombe a casa come si buttano le bombe non lo saprei mai eh dai sono morto due volte come si usano le bombe con la rotellina vedi ti lascia la bomba prima o qua oh ma non riesco a fare una kill come cazzo sono morto ah stanno i cecchini eh si si mettono sopra a destra e a sinistra e ti spanno le testa figli di buona donna almeno il mio obiettivo è fare una kill io già ci sono riuscito pensa eh io sto mi hanno ucciso quattro volte ancora devo fare una kill oh ma è troppo difficile voglio cambiare arma questa fa cagare sono un pro player non c'ho armi decenti c'ho una pistola ma voglio gli armi che ti escono da terra alcuna volta oh mio dio un altro kill mi hanno ucciso di nuovo dobbiamo esercitarci un po in questo gioco che ne dici? eh si però rimarrò sempre scarso perché? perché proprio è più forte di me i giochi di guerra sono scarsi a prescindere posso starci anche ora no credo che l'avevo ucciso invece è fatto solo all'Astis eh che si dice eh notizia all'altro lato no mi stanno sta uno che sta facendo letteralmente abuso di mio praticamente appena mi sposto dietro a un muretto che? ho fatto una kill anche io andiamo ti ho ucciso a te tu mi hai ucciso a me vabbè ci siamo fatti un favore a vicenda vieni sempre su questo lato qua vai no no ci rincontriamo guarda questo malucino mi credi? eh? ho fatto un assist una bomba nel culo ho avuto nel culo nel culo nel culo nel culo nel culo anche io una bomba stiamo vincendo noi mi dispiace siete sotto come si fa a vedere? sopra sta il punteggio è un'altra kill ma vengo ucciso ma abbiamo fatto due kill abbiamo superato il nostro obiettivo anche io ho fatto due kill penso il mio obiettivo era quello di farne uno qui l'obiettivo superato però cioè io sono troppo un pro player in questo gioco tanto è vero che ogni volta che vado in una squadra vinco tre kill attenzione record no io sto facendo possiamo dire che la nostra sfida è chi fa più kill tra me e te però io sto facendo il record negativo ah bene ho 11 e via non ci sono 11 volte anzi 12 bammo sono avanzato anche di livello e ho fatto un'uccisione da lungo tiro con un fissile di merda la prossima volta registro dalla mia visuale è meglio come è meglio? la stessa cosa un'altra uccisione anzi io sono più pro player quanto è vero che vado a vedere? un'altra uccisione ormai sono troppo pro sono un pro 6 kill e 4 assist come facciamo? 2 eh no 2 di loro addosso che fino a che tiro di merda che ho fatto? stai dicendo come faccio a fare? a vedere le mie kill eh devi prendermi sempre tap eccolo headshot bitch aspettavo tanto per dire questo dove sta tap non lo trovo ecco a quanto sto? guai allora 6 uccisioni 6 morti ho fatto 4 assist e 12 volte sono morto allora io ho fatto 3 kill 3 assist e 16 volte morto ma sono più forte di te per il momento eh ma io l'avevo fatto perché cioè è un'altra uccisione e sono morto però abbiamo fatto un'altra kill stiamo vincendo sei sotto eh Stark? no aiuta ti abbiamo superato no no ah bu però ci stiamo stiamo rimontando siamo a piccole distanze per ora siete sotto però sono sempre ste bombe del cazzo un'altra uccisione bentornato Smiley bentornato Stark mettiamo la bomba a casa la fanno tutti e quindi la faccio anche io colpo finale uccide uno e poi viene ucciso ma no oh me l'uccido bene nooo sono stato ucciso oh siamo siamo lì con i punti siamo lì no no non ci dobbiamo far recuperare nooo eh siamo sopra siamo sopra siamo sopra di 10 punti eh uccido uno ma vabbè ma siamo no a merda siamo lì sotto è un testa a testa nel finale oh non si vede più niente calma 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 no non sono ucciso a uccidere eh ah boh patate non sono riuscito a uccidere uno che stava sotto tiro vabbè io alla fine ecco me sto con voi vi faccio fare i punti vi ho fatto fare una marea di punti e faccio pure un assist mi hanno rubato l'arma di questo però credo che fa fagare nooo e vincono perché i più forti siamo noi i più forti siamo noi voglio la rivincita mi dispiace smile eh smile scusami stark voglio la rivincita voglio fare un altro partito grazie di aver visto questo video se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate condividete iscrivetevi al canale il link della pagina facebook in descrizione noi ci vediamo nel prossimo video bella ragazzi